Chi si sarebbe mai aspettato così tanti tradimenti a Temptation Island 2024? Oggi vi sveleremo tutte le sorprese e i colpi di scena di questa stagione incredibile. Filippo Bisciglia ha dichiarato che questa edizione sarà diversa da tutte le altre e, ragazzi, non stava scherzando. Le coppie sono entrate subito nel vivo del gioco e le motivazioni sono emerse immediatamente. Tony DJ, appena salutata la sua fidanzata, ha rivelato di essere un traditore seriale, paragonandosi a Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Jenny, la sua fidanzata, è rimasta disgustata dalle sue azioni e non riesce a credere a quello che sta succedendo. E poi c'è Lino, che sembra un adolescente preda dei subbugli ormonali. La sua fidanzata Alessia, dopo solo due giorni, ha chiesto un falò di confronto, ma la sua richiesta non è stata accettata, aumentando ancora di più la tensione. E ora veniamo alle anticipazioni di stasera. Si ripartirà proprio da Lino e Alessia. Lui sembra totalmente perso per Maika, la bionda tentatrice, mentre Alessia ha perso la pazienza e, dopo essersi confrontata con Martina, ha deciso di chiedere un altro falò di confronto. Stavolta Lino accetterà? Nel frattempo, Jenny confida alle sue compagne di temere l'ennesimo passo falso del DJ, che ha già dichiarato di aver avuto una doppia vita in passato. E poi c'è Raul, che non gradisce l'atteggiamento di Martina, avvicinatasi a Carlo Marini nel villaggio delle tentazioni. Il giovane è molto infastidito e non è da escludere che anche lui possa chiedere un falò di confronto anticipato. Ecco la vera bomba, Raul potrebbe chiedere un falò di confronto. Cosa pensi succederà? Lascia un commento con la tua opinione e non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento su Temptation Island 2024.